Ciao a tutti amici stoici, come avrete potuto capire dal titolo il video di oggi lo voglio dedicare ad uno dei miei attori preferiti, Robert Downey Jr. Ma non vorrò farlo parlando dal punto di vista del cinema, anche se ho già avuto modo di dirvi nel mio canale che sono un grandissimo appassionato della settima arte. In questo video di oggi voglio fare un approfondimento su una personalità che io reputo estremamente affascinante e dalla quale possiamo trarre alcuni insegnamenti che possono valere per tutta la nostra vita. Ovviamente prima di iniziare giusto un po' di info per chi vivesse fuori dal mondo e non conoscesse Robert Downey Jr. Nato il 4 aprile 1965 a New York, precisamente a Manhattan. Il padre era un regista mentre la madre era un'attrice. Durante la sua infanzia, a causa del lavoro del padre, il piccolo Robert si spostò molto e la famiglia sperimentò anche periodi di ricchezza e povertà in base a quanto bene o meno andavano i film del padre. I genitori di Robert però divorziarono purtroppo nel 1977 e lui visse con la madre in un primo momento e dopo qualche anno tornò a vivere con il padre che nel frattempo si era spostato in California. Mollato il college si trasferì nuovamente a New York per perseguire la carriera di attore. Dal 1983 fino al 1995 Robert Downey Jr. lavorò incessantemente e fu protagonista di alcuni dei film più belli, tra cui il film Chaplin, che si trattava della biografia del leggendario attore sceneggiatore inglese. L'interpretazione di Robert Downey Jr. in questo film gli valse una candidatura come Oscar miglior attore protagonista, che sarà la sua prima candidatura, che quell'anno perse contro Al Pacino per il meraviglioso film Shent of a Woman. La sua carriera era iniziata comunque a gonfie vele. Purtroppo però, in un periodo che va dal 1996 al 2001, l'attore subì una brutta battuta di arresto. Anzi, diverse battute di arresto, dato che non fece altro che entrare ed uscire da prigioni e da centri di riabilitazione. Il suo percorso però verso la redenzione iniziò nel 2003, quando Mel Gibson lo scelse per il ruolo principale della versione cinematografica di The Singing Detective, di Dennis Potter. Gibson, che era il produttore del film, ha dovuto addirittura sottoscrivere personalmente l'assicurazione di responsabilità civile per Robert Downey Jr., perché era ritenuto troppo rischioso. Nessuno della produzione di un qualsiasi film si fidava più ovviamente dai comportamenti di Robert Downey Jr. e quindi l'attore si ritrovò un'assicurazione dal costo elevatissimo e Mel Gibson si propose di pagarla di tasca sua. E questo per due motivi. Primo, i due erano grandi amici e infatti si erano conosciuti sul set di Air America. Due, Mel Gibson credeva assolutamente nel talento di Robert Downey Jr. e quindi ci teneva veramente, fortemente, tanto affinché lui si ripulisse. E infatti la scommessa di Mel Gibson pagò. E questo non fece altro che aprire la strada al ritorno di Robert Downey Jr., che da quel punto in poi ritornò a fare un sacco di film come era solito fare un tempo. Soprattutto sul set di Gothica avvenne un incontro che fu destinato a cambiare la vita di Robert Downey Jr. In quel set incontrò la produttrice cinematografica Susan Levin, la sua futura nonché attuale moglie. Perché Robert Downey Jr. dal 92 fino al 2004 è stato sposato con la musicista Deborah Falconer. Prima di accettare di potersi sposare con l'attore, la produttrice aveva insistito affinché lui avesse definitivamente chiuso con la droga. Così Robert Downey Jr. incominciò la terapia ed entrò in un programma di terapia scandito in 12 step e con l'aiuto della meditazione e attraverso l'arte marziere del Wing Chun riuscì finalmente ad eliminare le sue dipendenze. Il fatto di esserne uscito del tutto è stato definito dall'attore stesso come l'essere uscito da un coma durato 20 anni. Ora ammette che la cosa più forte che consuma è l'espresso. E beh, è come dargli torto rispetto al beverozzo che bevono da quelle parti. Tra il 2005 e il 2006 venne scritturato per il ruolo che ne avrebbe fatto di lui un'icona per tutta la vita. Ovviamente stiamo parlando del ruolo che ha avuto in Iron Man, primo film del neonato Marvel Cinematic Universe. Che belli che erano quei tempi. Per il film di Iron Man ci fu esitazione da parte della società di produzione perché ancora non ci si poteva fidare di lui. Ma il regista John Favreau, altro grande amico di Robert Downey Jr., insistette per l'attore e riuscì a procurargli un provino per il film. Durante il provino John Favreau disse che nessuno, assolutamente nessuno della produzione, poteva negare il fatto che Robert fosse destinato e fosse perfetto per la parte. E da lì nacque uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. Tant'è vero che il film Iron Man, il primo film di Iron Man, fa parte di tutta quella categoria di film protetti. E da lì poi arriviamo ai giorni nostri e tutto quello che è successo lo conosciamo tutti benissimo. Ok, finita la biografia. Cerchiamo di analizzare un po' più nel profondo la personalità di Robert Downey Jr. Cerchiamo di capire come è potuto cadere nella sua spirale di autodistruzione e soprattutto poi cerchiamo di capire come ne è uscito. Da bambino era sempre stato circondato da droghe, a causa del padre e della madre. Al piccolo Robert era permesso di fumare marijuana pensate già all'età di sei anni. E quando aveva otto anni per la prima volta padre e figlio si drogarono insieme. Più tardi infatti l'attore ricordò che quello era l'unico modo attraverso il quale il padre riusciva ad esprimere il suo amore verso di lui. Ma attenzione, lui non ha mai detto di aver avuto una brutta infanzia. Anzi, lui descrive la sua infanzia proprio come molto interessante. Proviamo a fare un elenco di alcune delle sue vicende nelle quali è stato coinvolto. 23 giugno 1996. La polizia ferma un'auto per eccesso di velocità. Al cui ingresso c'è ovviamente Robert Downey Jr. All'interno della macchina trovano 0,42 grammi di eroina, 1,49 grammi di cocaina, 0,32 grammi di crack e inoltre una magnum 357 scarica però sotto il lato del passeggero anteriore. Con ben quattro proiettili nel vano portaoggetti. Luglio 1996. Avviene il famigerato incidente di riccioli d'oro. Robert Downey Jr. sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sfonda la porta d'ingresso della casa dei suoi vicini e sviene nel letto del figlio di 11 anni. Il giudice del tribunale municipale della contea di Los Angeles gli ordina di entrare in un programma di riabilitazione della droga. Pochissimi giorni dopo Robert Downey Jr. fugge da questo centro di riabilitazione attraverso la finestra. Così viene fermato nuovamente dalla polizia e il giudice gli ordina di frequentare un altro programma di riabilitazione supervisionato e deve essere sottoposto a dei test antidroga periodici. Ottobre 1997. Un consulente antidroga testimonia in tribunale che Robert Downey Jr. ha saltato dei test antidroga obbligatori a settembre. Così la giudice gli dice incastrerò e ti incastrerò in un modo che ti sarà molto spiacevole. Sono disposta a metterti in una prigione di stato. Non mi interessa chi sei. Passa ben 113 giorni nella prigione di contea. Ma l'attore continua a saltare i test antidroga e così nel 1999 avviene il famoso processo. La giudice infatti si rivolge all'avvocato di Robert Downey Jr. e gli dice non credo che il vostro cliente si impegni a non usare droghe. Potete chiamarla dipendenza, ma c'è sempre un certo livello di scelta. Non penso che abbiamo altre alternative ad un carcere di stato. Le abbiamo provate tutte. Al che l'attore per difendersi cerca di spiegare alla giudice che cos'è una dipendenza. E infatti Robert Downey Jr. le dice è come se avessi una pistola in bocca con il dito sul grilletto. Il problema è che mi piace tanto il sapore del metallo della pistola. Ma la giudice non ne vuole sapere e quindi infligge all'attore tre anni di prigione di stato. In una lettera alla sorella mentre era in prigione nell'ultimo suo periodo cercando di cogliere il lato positivo lui dice porto notizie dal campo. La mia nuova esperienza è che per portare a termine le cose devo stare calmo e fermo. Quando ciò è consentito da una restrizione imposta credo che sia il modo che usa Dio per darti la libertà di recuperare e realizzare ciò che devi realizzare interiormente. Ma se da un lato l'attore ha descritto come l'essere incarcerato la cosa peggiore che gli sia mai capitata dall'altro lato afferma siamo programmati per essere in grado di adattarci a cose che sono apparentemente impossibili in un breve lasso di tempo. L'attore scontò solo 12 mesi di pena prima di essere liberato dal giudice per buona condotta. Al suo rilascio infatti nel 2000 gli venne assegnata la parte nella serie tv Ellie McBeal per la quale vinse anche un Golden Globe per la sua interpretazione. Ma nel giro di pochi mesi fu di nuovo nei guai. La sua stanza di hotel di Palm Springs fu perquisita dalla polizia che agì su una soffiata. All'interno della stanza dell'attore vennero trovate metanfetamine e cocaina. E ulteriormente mentre era in libertà vigilata l'attore fu trovato a vagare per le strade di Los Angeles a piedi nudi e drogato. Per questo fu immediatamente licenziato da Ellie McBeal e rimandato in riabilitazione. E fu inoltre anche l'ultima goccia per la sua prima moglie Deborah che lo lasciò definitivamente portandosi con sé il suo primo figlio indio. Quindi per l'attore le cose non potevano mettersi peggio. Licenziato nuovamente al lavoro, lasciato dalla moglie con impossibilità di vedere il figlio indio e nuovamente in riabilitazione. In una intervista nel momento in cui gli venne chiesto però da quando è cominciato proprio questo punto di non ritorno? Beh Robert Downey Jr. disse che dovresti tornare molto molto indietro e cita il film Less Than Zero del 1987. Fino a quel film dice Robert prendevo le mie droghe dopo il lavoro e nei fine settimana. Ma la situazione cambiò subito dopo il film. Infatti interpretava questo tossicodipendente che per lui rappresentò il fantasma del Natale futuro. Infatti il personaggio allora era un'esagerazione di lui stesso. Poi però le cose cambiarono e in un certo senso disse Robert sono diventato io un'esagerazione di quel personaggio. Bene dopo gli ultimi due arresti del 2001 Robert Downey Jr. entrò in riabilitazione e finalmente si disintossicò. Nel novembre 2004 ospitato nella trasmissione di Oprah parlando del suo ultimo arresto nell'aprile 2001 afferma di aver pensato sai una cosa non credo di poter continuare a farlo e ho cercato aiuto. Puoi chiedere aiuto in un modo un po' stupido e lo otterrai ma non ne trarrai nessun vantaggio. Non è così difficile superare questi problemi apparentemente orribili. Ciò che è difficile è decidere di farlo. E durante un'intervista a Vanity Fair qualche anno dopo dà un'altra spiegazione. Nel momento in cui l'intervistatrice gli chiede come ha superato i suoi demoni lui dice per alcune persone è solo una funzione dell'età. È perfettamente normale che le persone siano ossessionate da qualcosa per un certo periodo di tempo e poi la lasciano completamente stare. Robert Downey Jr. afferma che è pulito dalle droghe completamente da luglio 2003 e quindi così riuscì ad avere letteralmente una sua seconda vita così diversa dalla prima e così connessa allo stesso tempo. Ed eccoci qui ragazzi con la luce del sole del giorno dopo. Finalmente sì perché registro questa parte il giorno dopo rispetto a quando ho registrato la prima parte. Possiamo indicare ora in questo momento le lezioni che possiamo imparare da tutta la vita e dalla storia che è stata finora quella di Robert Downey Jr. Ecco è emblematico il discorso che l'attore ha fatto circa due settimane fa nel momento in cui ha vinto il suo primo premio Oscar come miglior attore non protagonista per il meraviglioso film che è Oppenheimer. Ecco l'attore in una parte dice Ringrazio la mia terribile infanzia e l'Academy in quest'ordine insieme alla mia veterinaria e scusatemi moglie. Si rivolge a sua moglie come se fosse stata la sua veterinaria. Perché? Perché lui dice che lo ha trovato in mezzo alla strada come un cucciolo ferito e rabbioso e l'ha curato amandolo e riportandolo in vita. Ecco perché sono qui. Ecco io penso che questa sia una dedica meravigliosa. E quindi quali possono essere le lezioni che possiamo imparare? Beh sicuramente la prima lezione è che non riusciamo a renderci conto che dobbiamo cambiare finché non tocchiamo veramente il fondo. Anzi finché proprio non lo scaviamo. Possiamo ricevere tutti i migliori consigli da parte di tutti ma inconsciamente non li riusciremo mai a fare i nostri. Perché? Perché noi esseri umani siamo testardi e duri a morire e quindi non capiamo veramente l'importanza di ciò che dobbiamo fare finché non sperimentiamo sulla nostra pelle le controindicazioni. Seconda lezione. Tre persone hanno salvato la vita di Robert Downey Jr. Innanzitutto come abbiamo detto prima dal discorso che fa l'Academy nel momento in cui riceve l'Oscar. Si capisce benissimo che la moglie ha giocato un ruolo fondamentale nella sua vita privata e non. Ma le altre due persone che hanno salvato la vita professionale di Robert Downey Jr. e che gli hanno dato appunto una seconda un'ulteriore in realtà un'ulteriore chance nel mondo del cinema sono stati Mel Gibson e John Favreau. Questo è un insegnamento stoico molto importante perché le relazioni sono alla base di tutto. Noi per quanto ci vogliamo sforzare di renderci conto che è tutto nelle nostre mani, che è tutto sotto il nostro controllo, che almeno la nostra vita, le nostre scelte e come noi decidiamo di viverla è sotto il nostro controllo, invece molto spesso non è così. Perché nel momento in cui si parla di dipendenze, nel momento in cui si parla di problemi seri, è vero che abbiamo sempre una scelta. Ma è anche vero che molto spesso questa scelta non riusciamo a compierla. E in questo senso le persone che noi amiamo, le persone che ci amano, possono aiutarci in modo veramente importante e determinante. L'insegnamento quindi qual è? L'insegnamento è quello di non pensare mai a se stesse e di non pensare mai di potercela sempre fare con le proprie forze. Chiedere aiuto è fondamentale. Marco Aurelio non faceva altro che ripeterlo nelle sue meditazioni. Non aver mai paura di chiedere aiuto. Quindi ragazzi, instauriamo legami veri. E non vuol dire questo avere amici in ogni parte del mondo. No, conserviamo i rapporti oppure creiamone anche di nuovi, ma facciamo in modo che siano rapporti veri, sinceri, di amicizia e di amore. Infatti non ci sono segreti. Seneca diceva se vuoi essere amato quello che devi fare è amare. Solo in questo modo possiamo avere delle persone che si prenderanno cura di noi nel momento in cui ne avremo bisogno e che sapranno benissimo che noi saremmo pronti a fare lo stesso nel momento in cui necessiteranno loro. E terza lezione fondamentale è importante. La redenzione è possibile per tutti, per tutti gli esseri umani, per tutte le persone. L'integrità che noi perdiamo è sempre nostra. Possiamo sempre ritrovarla. Seneca diceva non disperare. L'integrità perduta può essere sempre ritrovata. E una volta ritrovata non ci sarà più niente che potrà fermarti. La storia di redenzione quindi di Robert Downey Jr. ci insegna che nessuno, nessuno è mai perso per sempre. Non bisogna mai pensare di essere un caso perso. Grazie a tutti ragazzi per aver seguito fino a qui. Io ritengo la storia di Robert Downey Jr. veramente affascinante, veramente fonte di ispirazione proprio per questi motivi. E quindi spero che sia stato lo stesso anche per voi. Lasciate un like al video quindi e iscrivetevi al canale per supportare la mia attività e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!